Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per il maltempo che ha colpito la città di Vicenza, la provincia e la regione. Eseguiti alle 15 e 30 oltre 80 operazioni di soccorso, tra cui l'evacuazione di 7 persone rimasti isolati in un maneggio a Montebello nella zona del bacino di laminazione che sono stati evacuati con l'elicottero Drago 154 e un gomone. Evacuati con un gomone dalla squadra Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco, 10 impiegati delle poste rimasti bloccati al centro di smistamento di via Marosticana per l'inalzamento dell'acqua venuta dopo l'inizio dell'orario di lavoro. Al momento 13 squadre di Vigili del Fuoco sono impegnati in operazioni soprattutto di prosciugamento di zone allagate, cantine, garage e taverne. In attesa ancora 80 interventi.